Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 28 maggio, buongiorno da Teleprima benvenuti anche in questa nuova giornata alla nostra rassegna stampa come ogni martina offerta sempre da Tecnocampus oggi ovviamente tanti sono i fatti in primo piano, si parte come è di consueto ma come è logico che sia soprattutto dalla politica anche perché visti i risultati delle europee sembra proprio che gli scenari adesso possano cambiare e vediamo subito quelli che sono i fatti in primo piano, vediamo che cosa ci presenta questa mattina la politica che sembra presentarci un conto davvero salato e infatti vediamo che dalla prima pagina del Corriere della Sera Salvini apre subito due fronti, pressing sulla flat tax, attacco all'Europa, comunali il PD vince a Firenze e Bari e infatti vediamo quelle che sono le notizie proprio in primo piano, un contratto tra euro scettici mentre l'intervista a Prodi che dice ora serve un passo in più e Di Maio cosa fa? pensa al direttorio BIS, mentre il Movimento 5 Stelle ancora ha perso, pensate un po' la bellezza di 6 milioni di voti e vediamo ancora quelli che sono i dati definitivi nella parte centrale della pagina, europea 2019 tutti i risultati 34,3% per quanto riguarda la Lega, 22,8% parliamo del PD, Movimento 5 Stelle 17,1%, Forza Italia 8,8%, Fratelli d'Italia 6,4% più Europa 3,1%, Europa Verde 2,3%, la Sinistra 1,8% e le altre liste 3,4%. clamoroso il cambio in regione per quanto riguarda il Piemonte che passa dal centro-sinistra con Chiamparino che si ritira dalle tornate politiche di qualsivoglia natura e il centro-destra che afferra appunto la regione Piemonte con Alberto Cirio ancora vediamo le altre notizie in primo piano in questa giornata, andiamo a vedere proprio l'editoriale di Fontana Luciano Fontana che dice risparmiateci prove di forza e ovviamente adesso nel governo ci sono delle prospettive che sembrano essere ben diverse ma quello che appunto viene evidenziato in questo editoriale risparmiateci tutto ciò che rappresenta un ostacolo continuo e quindi una prova di forza per dimostrare chi conta di più e ancora continuiamo sull'economia, nozze, FCA, Renault terzi al mondo e infatti si va verso questo patto per quanto riguarda le auto e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo adesso sul quotidiano La Verità e vediamo che secondo questa testata in apertura di pagina Di Maio si arrende all'evidenza la sinistra invece non ce la fa, il triunfo della Liga al 34,3% il pentastrellato pronto a collaborare con Salvini, PD e intellettuali a seguito come al solito ignorano i loro errori e danno la colpa del risultato agli elettori che Gadlerner definisce classi subalterne e infatti vediamo proprio in questa immagine un riassunto di chi ha vinto e chi ha perso Matteo Salvini vediamo ancora Zingaretti, Di Maio, Berlusconi e Lameloni insomma questo è ciò che si racconta da questa prima pagina intanto il santo autogol e Bergoglio riuscì perfino a perdere le elezioni siamo davvero in un mondo completamente diverso stravolto probabilmente dalla volontà di aver messo a entrambi i piedi in quello che è l'ambito politico ovviamente sto parlando della Chiesa e questo ha determinato che la presenza del Papa proprio in questa prima pagina perché sembra che adesso si possa anche discutere su ciò che il Papa racconta su ciò che il Papa dice e su ciò che il Papa esprime anche in termini politici insomma quella che un tempo era la figura intoccabile dell'uomo che veniva visto quasi come un santo adesso invece viene utilizzata per raccontare una storia ben diversa intanto nella parte centrale della pagina l'avanzata del centro-destra nei feudi rossi questo è l'esempio più clamoroso di quello che è accaduto domenica con le amministrative che confermano infatti l'onda delle europee la coalizione trainata dai Lombard conquista il Piemonte e va al ballottaggio in molti comuni storicamente progressisti come Ferrara, Prato, Livorno e Reggio Emilia e ancora vediamo la crisi degli azzurri eletto Berlusconi ma forse Italia dimezzata nel partito si apre adesso la resa dei conti la Meloni invece esulta esiste una maggioranza alternativa con noi e ancora il flop dei sontaggisti che ha condizionato tutta la campagna elettorale nella parte bassa della pagina eccoci qua testimonial un trans che si taglia la barba Giretti fa lo spot per il cambio di sesso insomma posto in evidenza questo spot raccontato dalla verità che lavorosamente ovviamente raccontato da questo quotidiano e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano con il fatto e vediamo proprio in articolo di apertura per i 5 Stelle una strada obbligata l'opposizione il voto nazionale Salvini detta legge Movimento 5 Stelle spaccato Di Maio non lascia ma vede i big incluso Di Battista che lo difende e domanda volete che stacchiamo la spina al governo e intanto il Movimento 5 Stelle anche nei comuni perde Livorno mentre il PD tiene Bergamo, Firenze, Bari, Pesaro, Modena ma la Lega è davanti a Ferrara e insomma veramente c'è un quadro di chi vince e chi perde in questa giornata in questo martedì 28 maggio che sembra raccontare quella che è la storia dell'ultimo periodo e che sembra avanzare verso un capitolo nuovo ma soprattutto verso una situazione che molto spesso c'è parsa surreale ma a quanto pare in realtà non lo è intanto vediamo la fusione Renault la FCA si concede a Parigi l'ombra del caso Nissan sull'operazione e il fallimento bis per quanto riguarda il Mercatone 1 l'unica certezza ormai è la cassa integrazione e su Tangentopoli 2 la comia accusata pure di corruzione Jurassic Park voleva la sanità e infine un commento a Robilancio la battaglia sarà solitaria adesso ancora una volta si parla proprio in primo piano dell'Unione Europea e della guerra di poltrone con l'Italia immarginata per quella che sarà la nuova commissione e infine nella parte bassa della pagina un caso che sta sconvolgendo la televisione italiana perché sembra essere sempre qualcosa di più trash che mai Marc Caltagirone siamo noi il caso Pamela Prati parla la gente Pamela Perricciolo e infine nella parte bassa della pagina lo sport e l'intervista a Nibali il mio giro d'Italia a volte scappo via pensate un po' per rabbia e stress e ancora vediamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali quali sono i fatti in primo piano ed ecco qua Libero che la racconta così licenziano Di Maio i grillini delusi se la prendono col capo espiatorio Gigino crollato dal 33 al 17% ammette è andata male ma andiamo avanti in realtà però chi perde molla tranquilli a breve saranno i suoi affari di fare la fine di Mercatone 1 e intanto le armi di Salvini genesi di una vittoria scontate nella parte centrale le due persone che sono emerse maggiormente in questa tornata elettorale Francesco in politica non ne azzecca una la chiesa sbugiardata dai numeri veri quello che dicevamo prima infatti Papa Francesco preso proprio come elemento da sbeffeggiare secondo Salvini e a quanto pare il risultato è quello che vediamo sulle prime pagine dei quotidiani dall'altro lato la Meloni raddoppia i fratelli d'Italia a Giorgia è diventata grande e ancora l'unità d'Italia l'ha fatta Matteo Riace e Lampedusa scelgono la Lega ancora Metropoli Roccaforti della sinistra il PD resiste sono in centro e c'è poco da gioire nella parte bassa della pagina vediamo che per la parte economica nozze tra il gruppo francese Fiat pure Renault sale a bordo dell'auto di John Ercan e meno social più famiglia difendete la zona grigia tra infanzia e adolescenza i fatti adesso ci raccontano tutta un'altra storia però ogni mattina vediamo i titoloni sui quotidiani di ogni giornale e vediamo infatti che le situazioni sono sempre più complicate bambini maltrattati spesso uccisi dagli stessi genitori almeno queste sono le impressioni che si hanno e la situazione sembra essere sempre più brutta e il giornale invece Salvini è già premier ribaltone dopo il voto impone a Conte Tav e Flat Tax e sfida l'Unione Europea sui conti psicodramma di Maio pensa di staccare la spina ma da Bruxelles arriva una multa da 3 miliardi e mezzo e intanto il Movimento 5 Stelle ha un dilemma stare al governo o farsi esplodere e il più votato dopo Salvini chi è? eccolo qua secondo questo quotidiano Berlusconi da record e subito vede Orban mentre Casaleggio è il vero colpevole della Caporetto ancora nella parte destra i dossier sui temi caldi o il voto la tentazione che agita in realtà la Lega tutto quello che c'è appunto alle spalle di questo voto e ancora l'onda nera è solo una goccia quei fascisti dispersi alle urne e nella parte più bassa della pagina ma in Europa Italia tagliata fuori dalle vere poltrone che contano insomma infatti raccontano una situazione ben diversa l'Italia si è espressa ma adesso staremo a vedere il ruolo che potremmo avere o non potremmo avere all'interno dell'Unione Europea e ancora vediamo il tempo i geni dell'Unione Europea che salvano il governo la vecchia commissione di Juncker sta per annunciare una multa da 3 miliardi e mezzo all'Italia aiuta Giuseppe Conte nello psicodramma Movimento 5 Stelle dopo la botta elettorale presa da Salvini Grillini e Carroccio ricominciano a punzecchiarsi area di crisi sulla giustizia e ancora vediamo che i terremotati si fidano ormai solo della Lega mentre nella parte bassa della pagina c'è vita oltre i parioli a Roma è resuscitato il PD ottima prova dei dem nella capitale anche fuori dal furtino del centro 5 Stelle ancora in caduta libera mentre per quanto riguarda Quotacento batte il reddito ecco perché vinciamo noi a parlare il sottosegretario Durigonna ancora nel sempre nella parte bassa la politica mariana del crocifisso Matteo incassa tanti voti perché fa il voto giusto è questa anche ancora una volta la metafora di questa situazione ma continuiamo a sfogliare le prime pagine quotidiane e dalla Repubblica è ora Salvini da i 30 giorni a Di Maio la Lega al 34% detta infatti le condizioni a Movimento 5 Stelle crollato al 17 variamo subito autonomia flat tax TAV decreto sicurezza leader pentastrellato in difficoltà stacchiamo la spina per ora no l'Unione Europea domani la lettera di richiamo sui conti italiani mentre il PD tiene a Bari Firenze e Bergamo e Zingaretti dice bisogna allargare l'alleanza insomma nuove prospettive per quanto riguarda il PD nuove prospettive di alleanze e per quanto riguarda il governo ancora una forte incognita e intanto l'editoriale racconta degli spettri neri del caos nelle parole di Ezio Mauro e ancora vediamo in questa prima pagina la parabola del crociato con le parole affidate a Diamanti mentre Fazio trasloca colpito dall'effetto voto e vediamo ancora le altre prime pagine dei quotidiani e vediamo il mattino questa mattina come ci racconta i fatti scusate il gioco di parole e vediamo proprio in parte alta della pagina sempre le notizie in breve oggi l'annuncio FCA Renault un'alleanza che non favorisce le nostre fabbriche mentre per il campionato Empoli in B finale batticuore Inter Atalanta in Champions e per il cantile azzurro festa Sampdoria per Quagliarella grazie a tutti il futuro eccolo qua di ci vedrò e intanto nell'apertura di pagina Trionfo Lega il PD soppassa il Movimento 5 Stelle europee Salvini supera il 32% Crollo 5 Stelle Democratici Secondi Forza Italia al 9 Meloni sopra 6 il leader leghista festeggia con il crocifisso a accelerare il contratto e Di Maio dà la colpa all'assenzione mentre in Francia Germania Le Pen schiaffa Macron e Merkel vittoria però dimezzata e l'Europarlamento boom verdi ma i sovranisti non sfondano PPS socialisti sotto il 50% e ancora vediamo nell'analisi che viene fatta in questa prima pagina un ribaltone che mina il governo mentre l'Unione Europea nel caos decisivi i liberali e ancora vediamo che cosa accade in questo nostro sud Italia dove a quanto pare il carroccio sfonda a Napoli pensate un po' e Terzio campane a grillini primi ma prendono 12 punti i democratici recuperano nei grandi comuni e secondo quanto raccontato proprio da questa prima pagina uno dei motivi è perché il reddito non è bastato e questo racconta una storia lunga ormai un po' di mesi e ancora nella parte bassa della pagina ancora i fatti da Cadice liberi il napoletano il salernitano rischia tra studenti Erasmus in carcere solo il casertano intanto migliorano le condizioni del ragazzo che è finito in ospedale con la botta alla testa e comunque ancora non si vede una situazione positiva per il ragazzo casertano ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo su il manifesto Errare umano perseverare diabolico e questo viene raccontato nell'editoriale mentre in apertura di pagina vediamo il titolo rinviati a giudizio il grande esodo 40% di astenzione sprofonda i 5 stelle nella sconfitta shock ora sono nella trappola del governo sotto il tallone leghista capo politico e tutto il gruppo dirigente riuniti ieri in conclave affrontano il giudizio di elettori e attivisti sul grande flop e insomma quello che probabilmente nessuno si domanda è dove abbiamo sbagliato che cosa abbiamo dimenticato a quanto pare questo è uno di quegli interrogativi che nessuno dei partiti che si è trovato in difficoltà in questa tornata elettorale si pone e proprio perché non si pone la domanda non cerca un rimedio e ancora vediamo nella parte bassa della pagina elezioni anticipate si parla di Grecia al voto però tra 4 settimane e la sconfitta di Sirizia più facile conquistare il governo che la società e infine nella parte bassa della pagina l'intervista a Lambert noi verdi pronti all'alleanza ma ancora tanti e tanti dubbi e Zingaretti bene così PD la Pax è già finita servono adesso i moderati insomma il PD guarda già lontano e ovviamente non si ferma a questo risultato anche perché c'è ancora tanta strada da compiere e soprattutto le alleanze sono quello che vengono raccontate in primo piano e la stampa invece il ribaltone lega boom crollo 5 stelle Salvini oltre il 30% grazie Italia l'esecutivo non cade sorpresa PD è diventato il secondo partito il Piemonte invece va a Cilio il capitano alla prova del successo lo vediamo ancora una volta baciare il crocifisso mentre Le Pen supera Macron volano i verdi Strasburgo respinge l'ondata sovranista il fossato e il fossato delle due europee e ora inizia lo scontro frontale ancora vediamo gli altri fatti in primo piano questa volta andiamo a vedere il dubbio ed eccoci qua le condizioni di Salvini vediamo quelle che sono le sue proposte o meglio quelle che non vuole più come proposte ma come certezze su Bisultav e Flatax la Lega sfonda quota 34 e mette all'angolo i 5 stelle e lo scenario il PD il sorpasso del Gambero rilancia Zingaretti e la sinistra infatti Matteo Salvini vince le europee edizione 2019 Luigi Di Maio le perde e questo in estrema sintesi la sentenza che esce dalle urne di domenica scorsa e non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che Salvini e Di Maio sono due leader della stessa maggioranza ma mentre la Lega raddoppia il 17,3% delle politiche di un anno fa e arriva al 34,3 il socio di governo grillino di mezzo ai voti e sprofonda il 17% un vero clollo rispetto al 32,7 del 2019 insomma il consenso del governo tiene la somma dei due partiti di maggioranza supera infatti il 50% ma i rapporti di forza sono completamente ribaltati con Salvini che diviene premier e rinpector e rilancia in senso reghista e nordista l'azione di governo a cominciare proprio dalla Tav e intanto nell'editoriale di Carlo Fusi lezione dal voto quella crepa tra città e periferie ancora vediamo sempre in primo piano l'analisi vice premier in surplus chi spezzerà l'equilibrio mentre il cavaliere è fuori gioco lega e fratelli d'Italia possono liberarsene ovviamente è un racconto che non esiste visto che comunque l'alleanza per arrivare a un passo successivo necessita ancora una volta di questa qualifica e ancora Pasquino Di Maio Debole 5 Stelle serve un leader credibile mentre nella parte bassa della pagina l'anno giudiziario del CNF fiducia e mediazione ecco la democrazia secondo gli avvocati insomma i passi in avanti sono stati fatti le situazioni si prestano davvero al giudizio dei più ma soprattutto davvero si è votato con coscienza e con volontà di fare qualcosa di diverso oppure semplicemente si è lasciato che a trascinare proprio il voto fosse l'idea che in un momento qualcosa poteva apparire diverso perché le idee di qualcuno rispetto a qualcun altro potevano essere meglio insomma questa è una domanda che ci poniamo in questa giornata questo è il risultato delle europee che noi ci limitiamo ovviamente ad analizzare ma andiamo avanti e adesso ci spostiamo sulla parte sportiva con il Corriere dello Sport allenatori li cambiano tutti Conte l'Inter lo copre d'oro stipendio mostruoso 36 milioni netti in tre anni la firma è entro sabato e Rino ciao Milan vede Gazidis e si dimette lungo incontro con la D Rosso Nero sancisce il divorzio da Gattuso e Gasperini vuole un'altra Roma il tecnico dell'Atalanta valuta l'offerta sì solo con garanzie tecniche mentre Lazio lo Tito tiene sotto scacco in Zaghi e aspetta una mossa di Mijalovic infine nella parte bassa della pagina Napoli il Big è Rodrigo play out da giocare e perché FCA e Renault si sposano insomma tutto raccontato in questa prima pagina e ancora vediamo i fatti di sport con tutto sport Milan shock Gattuso lascia il tecnico ha deciso di dimettersi dopo l'incontro con Gazidis via anche Leonardo e nella parte centrale della pagina Sarri c'è Isco per te mentre Conte per te c'è Barella e infine nella parte bassa della pagina Miracolo Atalanta no un vero e proprio capolavoro e la partita del cuore Ronaldo gol e show con tutti infine Toro e Milan rischia preparati per l'Europa l'intervista a Pauilio dopo il far play finanziario mancano adesso altri elementi e soprattutto rischiano ancora la situazione e soprattutto viene richiamato Belotti insomma questi fatti in primo piano nella giornata di oggi ancora tanti fatti di cui parlare quindi non andate via perché io adesso vi lascio a qualche attimo di pubblicità restate qui perché continuiamo ancora a parlare di fatti e di informazione di fatti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecno Campus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, ancora una volta siamo pronti per affrontare quelle che sono le informazioni che arrivano dal nostro territorio, dalla regione Campania. Si parte da Napoli e si arriva fino a Caserta, la sua provincia. Infatti vediamo che cosa accade a Napoli con delle buone notizie per chi comunque fa della propria voce una professione. Infatti apre nel centro storico di Napoli l'Accademia dei Doppiatori. Negli storici studi della Fono Time si inaugura infatti la scuola, il difetto di pronuncia tipico dei napoletani, trasformare il gruppo consonantico I in una I. Così aglio diventa aglio, foglia cambia in foia e è un errore da eliminare per chi vuole entrare nel mondo del doppiaggio. Christian Anzante è inflessibile, mentre parla si apre un ampio spretto di emozioni sonore che rimanda ai volti rudi, severi nei lineamenti di alcune star hollywoodiane, da Bradley Cooper a Christian Bale, da Hewan McGregor a St. Rockwell. Ho prestato la voce a questi e tanti altri attori, dice, tra quelli che ammiro, ma non ho nel mio curriculum. C'è Edward Norton con gli amici e colleghi Walter Brucierelli e Roberto Pedicini. Anzante si prepara così a inaugurare l'Accademia del Doppiaggio negli storici studi della Fono Time in via dei Marinis e lo farà venerdì 31 maggio alle 15 e seguirà in sede i provini degli aspiranti corsisti. E insomma, dice, cosa mi aspetto dai partecipanti? Niente preoccupazioni, ma vera e propria autenticità. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, andiamo a vedere i propri risultati delle elezioni, vediamo il voto a Napoli, la Lega al 12,4%, ma non sfonda. 5 Stelle, prime al 39,9%, record a stensionismo, crisi del PD al Sud. E infatti questo è quanto accaduto nella giornata. I domenica i democratici nel capologo risalgono sopra il 23%, male nelle circoscrizioni meridionali. Forza Italia crolla sotto i 10, regione Carroccio e Forza Italia più forti. Centro-destra, prima coalizione, Ginepraio Campania. Il voto europeo nella regione a Napoli conferma i trend nazionali, ma consegna comunque una fotografia assai problematica dei propri equilibri interni. In sostanza anche da noi si registra il calo di 5 Stelle e Forza Italia e la crescita per contro di PD e Lega. E ancora sempre sul tema europeo, vediamo che cosa è accaduto sempre domenica. Roberti è il più votato a Napoli, PD cresce, è unico contrasto alla Lega. E infatti il voto europeo ci dice che il PD è l'unico partito in grado di contrapporsi alla marea montante di populismo demagogico e nazionalismo di questo governo e della Lega in particolare. I cittadini hanno capito che è importante avere un PD forte, ad affermarlo. E Franco Roberti, capolista del PD nella circoscrizione sud, è primo eletto con 145.446 preferenze. A Napoli città l'ex procuratore antimafia, Franco Roberti, ha infatti ottenuto il maggior numero di preferenze, superando Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. In provincia di Napoli ha raccolto 48.891 voti. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano proprio da Napoli. Si parla di cronaca, spari in ospedale a Napoli, flash mob per dire no ai clan, la direzione siamo ancora scioccati. Ed ecco qua vediamo le immagini di questo flash mob proprio nella parte antistante dell'ospedale. Siamo tutti ancora scioccati da quello che è accaduto, ma siamo compatti, crediamo nella buona sanità e quindi non ci arrendiamo. A dirlo è Corvino, direttrice sanitaria dell'ospedale Pellegrini di Napoli, in occasione dell'iniziativa che si è svolta proprio nella giornata di ieri contro la Camorra, organizzata nell'ospedale, dove dieci giorni fa è avvenuta una sparatoria proprio al pronto soccorso. La vicinanza del quartiere dice, la sentiamo, noi siamo il pronto soccorso e il quartiere ama l'ospedale. Abbiamo sentito la loro vicinanza perché sanno che siamo qui per loro, dice una presenza di impegno, ma anche con la paura di quella notte, come conferma Emilio Bellinfante, responsabile del pronto soccorso del Pellegrini. È stato un momento che non dimenticheremo mai. Insomma, quando veramente si apre il fuoco proprio in una struttura ospedaliera, in qualcosa di pubblico, ma soprattutto che tutela la salute, diventa una realtà che supera ogni peggiore aspettativa e immaginazione. E davvero diventa complicato vivere e gestire queste situazioni. L'importante però è riuscire ad andare avanti e come hanno dimostrato proprio gli operatori di questo ospedale, il dire il proprio no rappresenta una forza senza uguali. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo sul calcio Napoli, adesso infatti il Napoli pensa al mercato, quattro colpi nel mirino e la suggestione Quagliarella. Il bomber di Castellammare di Stabia sarebbe un clamoroso ritorno, quattro colpi è un sogno chiamato Quagliarella e questa è la strategia del Napoli sul mercato, l'obiettivo è rinforzarlo organico. Secondo i dettami di Carlo Ancelotti, il summit di giovedì scorso è servito a fare punto sugli innesti, due terzini, un centrocampista, un attaccante e poi c'è la suggestione Quagliarella, il 36enne bomber di Castellammare di Stabia ha vinto la classifica a marcatori in Serie A e domenica sera Marassi gli ha tributato una vera standing ovation. Non dimenticherò mai lo striscione e l'accoglienza ricevuta, non avrei mai pensato di superare Cristiano Ronaldo, è stata una stagione da incorniciare. E ancora vediamo gli altri fatti proprio dalle pagine del mattino, vediamo che cosa accade a Ischia e Cronaca stoppa la demolizione del ristorante dei VIP, infatti la Corte di Appello di Napoli alla quarta sezione penale, Presidente Lanna, giudice all'atere di Gioio e Garufi, con ordinanza del 24 maggio, resa però nota solo adesso, ha accolto l'istanza presentata agli avvocati Bruno Molinaro e Giovanni Battista Vignola per conto di Vincenzo e Giuseppina Vacca ha disposto la sospensione della demolizione del ristorante dei VIP in nido del Falco in località Marunti, scarrupata. La Corte, motivando favorevolmente l'accoglimento dell'istanza, ha ritenuto infatti che ricorre il presupposto del Fumus Boni Iuris, in considerazione del fatto che per alcuni dei reati di inizio oggetto di contestazione è intervenuta prescrizione già dichiarata con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27 maggio del 2009, lamentandosi da parte degli stanti l'omessa pronuncia di detta sentenza in ordine alla revoca dell'ordine di demolizione disposto dal giudice di primo grado. E ancora continuiamo sulla cronaca, un vero e proprio giallo che coinvolge l'Irpini, anziana trovata morta a casa, grave marito 93enne. Stiamo parlando di una tragedia accaduta a Merito Irpino, un'anziana di 82 anni è stata trovata dai carabinieri della stazione Grotta Minarda senza vita nella sua abitazione, marito 93enne. Invece è stato rinvenuto privo di sensi sul posto un'ambulanza che è provveduta a trasportare l'uomo all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Dai primi accertamenti eseguiti dai militari dell'ARBA entrambi i corpi non presenterebbero segni di violenza. La salva della donna, su disposizione dell'autorità giudiziaria sannita, è stata affidata ai familiari e sono ora in corso le indagini per scoprire il perché di questo vero e proprio dilemma. E ancora vediamo le altre notizie, ancora cronaca. Napoli massacrato di botte in Piazza Dante, sono vivo per miracolo, non voglio più tornare in strada. E vediamo infatti che cosa è accaduto. Pestato a sangue dal branco e lasciato a terra in fin di vita, questa la storia di Eugenio che alcuni giorni fa è stato massacrato di botte in Piazza Dante, erano in sé io forse di più i ragazzini della Baby Gang che non hanno esitato a colpirlo più volte al volto e dalla nuca una violenza assunda che non lascia scampo e che si è scatenata come racconta la vittima all'improvviso, senza una motivazione e senza la volontà di fare qualcosa che andasse contro quello che effettivamente si crede possibile. Insomma, una situazione di quelle che si ripetono sempre e più spesso a Napoli come in tanti altri luoghi, ma in particolare in questa città dove sembra che le Baby Gang stiano spadroneggiando e stiano diventando proprio l'elemento principale di tutto. Ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo su Caserta News e andiamo a vedere tutti i fatti che riguardano la politica. E infatti speciali elezioni, tutti i nomi degli euro parlamentari eretti, due casertani a Bruxelles, lo andiamo a vedere proprio in questa prima pagina online di Caserta News. Strappano i passi, infatti, Valentino Grant della Lega e Pina Picerno del Partito Democratico. Si eletti per il Movimento 5 Stelle, cinque per la Lega, quattro per il Partito Democratico, due per Forza Italia ed uno per Fratelli d'Italia. Sono questi i numeri delle elezioni europee nella circoscrizione sud che coinvolge anche la provincia di Caserta al termine di uno spoglio ancora non ufficializzato nella sua interezza, ma che sembra ormai aver definito il quadro degli eletti. Il Movimento 5 Stelle strappano un posto sul voto per Bruxelles, Maria Chiara Gemma con elezioni europee 2019, risultati campania con 84.530 voti, Laura Ferrara con 76.888, Pier Nicola Pedicini 56.522, Rosa D'Amato 38.166, Isabella Adinolfi 35.779, Mario Furore 31.922, i cinque eletti della Lega invece sono Matteo Salvini con 348.219 voti, Massimo Casanova 64.422, Andrea Caroppo con 50.314, Lucia Vuolo con 40.916, Valentino Grante di Caserta 35.563, Vincenzo Sofo se Salvini optasse per un'altra circoscrizione dove scattare. E ancora vediamo nel Partito Democratico, primo eletto Franco Roberti con 145.205 voti, Giosi Fernandino con 81.621, Andrea Cozzolino con 79.658, e Pina Picerno con 77.613, mentre in Forza Italia strappa nel pass per Bruxelles, Silvio Berlusconi con 183.685 voti, ed Aldo Patriciello con 81.268, Fulvio Martuscello scatterà solo se Berlusconi opterà per un'altra circoscrizione. E ancora vediamo gli altri fatti che arrivano dalle testate locali e vediamo che cosa accade, che cosa viene raccontato da Caserta, prima pagina, che parla appunto di politica e dice che l'uomo del presidente De Luca, Piscitelli, ha votato Lega e Grant, la moglie una potentissima nella sanità. Premesso che il PD è andato bene, la gravità è che Alfonso Piscitelli è moglie dopo che il presidente De Luca è sempre rispettato e portato in alto, lo hanno tradito votando ufficialmente Lega. Una gravità enorme, il governatore non può fare lo struzzo regionale alle porte, il PD è avanti ed è in forte rimonta. De Luca non può far passare inosservato questo tradimento nei confronti di chi si è fatto in quattro per l'europea, anche perché il dato vero è che Grant è arrivato quinto e Piscitelli è stato abbandonato da Noia Versani nel 70% dei suoi elettori che si sono avvicinati a lui perché c'era il rapporto con De Luca. Alle scorse regionali Piscitelli prese 3.000 e dispari voti scattò perché fu recusata la lista De Luca presidente e presentata sbagliata da Cusani. Ora già tutti sulle regionali, la politica è chiara e netta, chi è con me, chi non è con me, contro di me, figuriamoci se un Piscitelli passerà inosservato per il governatore di destra, Enzo De Luca. Ovviamente il quotidiano fa giochi di parole. Insomma, anche con questa notizia e con i tradimenti in atto che purtroppo rappresentano sempre e comunque delle vicissitudini di chi non riesce a fare altrimenti, termina qui la rassegna stampa di oggi. Come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, vi ringrazio per aver scelto Teleprima e soprattutto ringrazio Tecnocampus che ogni mattina ci dà l'opportunità di fare informazione insieme a voi. Vi auguro una splendida giornata e vi do appuntamento come sempre alla mattinata di domani. Buona giornata a tutti! Grazie a tutti! Questo programma è stato offerto da Tecnocampus a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!